Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, siamo nell'orto del convento dei frati minori Cappuccini per raccontarvi quello che accadeva il 14 ottobre del 1912. Da due anni Padre Pio era sacerdote e da diversi anni era a Pietrelcina, una strana malattia lo costringeva a stare a casa in famiglia e lui il 14 ottobre del 1912 scrive una lettera a Padre Agostino da San Marco Illamis, a differenza delle altre lettere non fa una grande premessa ma va subito al dunque, mio carissimo padre sapete dove si è appigliato il diavolo? Egli non voleva che nell'ultima mia lettera inviata vi fossi tenuto informato della guerra che lui mi muove e siccome io secondo il mio solito non voglio dargli ascolto cominciò subito a suggerirmi come piaceresti di più a Gesù gli diceva il diavolo se tu rompessi ogni relazione col padre tuo egli per te è un essere assai pericoloso e un oggetto di grande distrazione per te il tempo è assai prezioso al non sprecarlo in queste pericolose corrispondenze col padre tuo impiega questo prezioso tempo nel pregare per la tua salute che è molto in pericolo se tu seguiti in questo stato sappi che l'inferno sta sempre aperto per te questo gli scriveva gli diceva più che altro in diverse vessazioni il demonio al giovane frate sacerdote padre pio da pietrelcina che lui poi rispose infatti scrive padre pio a padre agostino a tale diabolica suggestione io risposi in modo evidentemente sarcastico debbo confessarvi il mio torto fino al presente sono stato in un falso supposto non vi credevo tanto bravo nella direzione di spirito mi duole intanto di non potervi assumere per mio divertore poiché il padre mio esercita questa carica da molto tempo e le nostre relazioni sono giunte a tal punto che troncarle scrive padre pio di questo suo dialogo nel momento della vessazione che troncarle così di botto non mi riesce girate girate scrive padre pio nel raccontare quello che è accaduto che troverete delle anime che vi assumeranno a direttore al del loro spirito essendo voi bravo in tale materia questo un po il dialogo che c'è stato e poi ancora padre pio racconta al suo direttore questa non fu mai risposta per essi dico per essi perché era più di uno sebbene uno solo parlasse poiché mi si buttarono addosso maldicendomi e picchiandomi fortemente minacciandomi di distruggere se non mi decidevo a mutare idea riguardo alle nostre relazioni questa scrive il giovane frate pio da pietrelcina il 14 ottobre del 1912 è la guerra che a tutt'oggi mi si muove ancora no 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 Grazie a tutti.